E' stato presentato ieri il cartellone della rassegna di teatro comico che si terrà presso il Teatro San Paolo di Pontecagnano a partire dal 20 ottobre. Sei gli appuntamenti previsti nell'ambito della Kermess organizzata dalla parrocchia Maria Santissima Immacolata e dall'Associazione Euditipe, che organizzerà anche un laboratorio teatrale per ragazzi e adulti. Primo spettacolo in cartellone, porno subito, testo dei comici Ciro Ceruti e Ciro Villani che sarà portato il 20 e il 21 ottobre in scena dalla compagnia teatrale Gabbiani di Baronissi. Una risata allunga la vita, un'espressione che già è il manifesto di questa rassegna teatrale, com'è nata questa idea? Insomma, intanto il titolo l'abbiamo scelto dopo una lunga riflessione, l'abbiamo cercato proprio per lasciare il segno, per colpire la gente, ma anche per esprimere lo spirito giusto di questa iniziativa, che è appunto quella di affrontare la vita con un sorriso. Iniziamo il 21 ottobre con una bellissima commedia di una comicità esplosiva, porno subito, uno degli amici di I Gabbiani di Baronissi, poi il morto è vivo, un doppio atto unico dedicato ai fratelli di Filippo, non poteva assolutamente mancare, e quei figuri di tanti anni fa e pranziamo assieme. Poi scendiamo in campo noi, o meglio saliamo sul palcoscenico alla vigilia di Natale con il classico dei classici, Natale in casa Cuppiello, imperdibile. Poi abbiamo altri, con il nuovo anno, gennaio e febbraio, due testi da non perdere, perché venendo di un alto livello di interpretazione, cornuti e contenti e risate in famiglia. Ha un grande senso, innanzitutto di una grande responsabilità che proviene da una maturità che la parrocchia esprime attraverso anche chi collabora all'interno della parrocchia con una finalità specifica che è quella del teatro. Diamo la possibilità alla città, alla parrocchia, di alcune serate, non solo di un sano divertimento, ma soprattutto attraverso anche un laboratorio che vedrà protagonisti, i ragazzi, le mamme, gli anziani. In un tempo come quello del nostro, dove ci si chiude nel proprio io, con un laboratorio, con il teatro, siamo chiamati a relazionarci. La relazione è importante perché non solo ti pone davanti all'altro, ma anche ti impegna a responsabilizzarti. E quindi la parrocchia si pone come un servizio, un servizio non solo alla nostra intera comunità, ma anche all'intera città, con questa possibilità di una rassegna teatrale, ma soprattutto di un laboratorio che vedrà protagonisti, come dicevo poc'anzi, l'intera città.